La politica del trasporto pubblico per l'Unione Europea, l'Italia e le Regioni, il ruolo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nella riorganizzazione di servizi e sistemi di trasporto intelligenti, organizzato nell'ambito del progetto IPA Adristarter. Questo è il tema dell'importante giornata di approfondimento che si è svolta ad Ancona, Hotel Excelsior La Fonte, al quale hanno partecipato relatori di assoluto valore. L'obiettivo generale del progetto Adristarter è il consolidamento di un sistema di trasporto integrato e sostenibile. Partner del progetto sono la Regione Abruzzo, in qualità di capofila, la Regione Marche, per l'Italia, e per l'estero la Bosnia-Herzegomina e la Croazia. Ad introdurre il seminario è stata Letizia Casonato, PF Viabilità e Trasporti della Regione Marche, che ha illustrato come la Regione si stia evolvendo nel campo dell'infomobilità. Temi che noi abbiamo affrontato con Andrea Sergiacomi, PF e Sistemi Informativi della Regione Marche. Stiamo parlando di un progetto europeo IPA, nell'ambito del quale Regione Marche è uno dei partner e sostanzialmente questo è un evento di Innovation Brokering, cioè cerchiamo di raccontare alcune best practice innovative nell'ambito dell'informatica, se vogliamo, applicata ai trasporti, trasporti di passeggeri, trasporti logistici, merci, ecco l'idea appunto di raccogliere alcune eccellenze, molte che sono realtà produttive nel settore S&T della Regione Marche, che hanno collaborato al progetto Adristarter e che quindi ci raccontano le loro realizzazioni. Tutto questo è possibile all'interno di una progettualità comunitaria e la macroregione adriatico-ionica dà anche questa opportunità? Senz'altro, noi come Sistemi Informativi di Regione Marche partecipiamo a molti progetti europei, direi che sono una risorsa importante sia per sperimentare nuove modalità di costruire applicazioni innovative e sia di sfruttare quelli che sono i fondi europei dedicati a questo, partecipiamo a progetti Horizon, quindi ricerca, ma anche a progetti IPA e quindi anche a progetti che si innestano poi nelle realizzazioni per la macroregione adriatico-ionica. Siamo abbastanza innovativi come Regione? Diciamo che ci dobbiamo sforzare per esserlo sempre di più, ma ci sono molte piccole eccellenze, spesso la difficoltà è quella di farle conoscere al mondo, ma di fatto le marche sono una realtà molto importante anche da questo punto di vista. Accelerare la competitività legata alla logistica e ai trasporti è uno degli obiettivi che si pongono i paesi della macroregione adriatico-ionica e a parlarcene è Germana di Falco, valutatore indipendente del programma IPA ed esperto di politiche dell'innovazione dell'Unione Europea. I vantaggi sono molteplici, mi viene da dire che da che mondo è mondo le rivoluzioni industriali e i processi di innovazione si sono sempre legati al settore dell'automotive e della logistica. Da quando l'automobile ha iniziato ad esserci, il trasporto su strada ha iniziato a essere la modalità di trasporto più comune è sempre stata una frontiera su cui si sono sfidati i cervelli e le economie pubbliche. In questa prospettiva la macroregione adriatico-ionica, che è l'orizzonte di riferimento del programma IPA, scommette sui trasporti integrati tra le due sponde dell'adriatico per fare diventare questa regione una regione polo a livello globale. Non è un caso che il secondo pilastro della strategia della macroregione adriatico-ionica convogli una svariata quantità di risorse finanziarie sia comunitarie sia dai paesi membri che puntano a produrre benefici per le popolazioni in almeno tre dimensioni. La prima, avere trasporti più intelligenti, significa potersi muovere meglio, potersi muovere prima e soprattutto per un territorio come quello delle Marche garantire la piena accessibilità ai servizi pubblici e delle zone costiere e delle aree interne. Il secondo grande beneficio è che non è un segreto per nessuno che i trasporti siano un problema legato all'inquinamento e all'ecoefficienza. Quindi tutte le sfide che ci pone il paradigma del cambiamento climatico stanno portando a nuovi modi di veicolare sia le persone sia le merci. Il terzo beneficio è che delle zone che siano logisticamente competitive diventano anche in grado di attrarre imprese e start-up, quindi di creare occupazione ma anche di creare una nuova frontiera per il manifatturiero marchigiano che ha bisogno di collegarsi sempre più velocemente a tutto il resto del mondo. Dottoressa, c'è anche il tema del trasporto non solo delle persone e delle merci ma anche di quello intelligente, telematico, insomma il trasporto delle informazioni? Diciamo che quello di cui parleremo oggi è come la società dell'informazione, quindi come alcune soluzioni che vanno dalla possibilità di accedere in tempo reale a un'enorme quantità di dati e questo consente di pianificare i sistemi di trasporto, a come invece l'ICT applicata ai mezzi di trasporto. Ormai non è soltanto il mito della Google Car, ma noi abbiamo Tesla e un'accessibilità sempre più veloce e più economicamente possibile per tutti delle macchine che addirittura si guidano da sole. I droni sono un'altra frontiera del trasporto merci, ormai è stata sperimentata la consegna delle pizze tramite droni. Allora l'informatica e i trasporti ormai vivono un connubio che ha tantissime sfaccettature. La giornata di oggi serve proprio a esaminare in quanti modi è possibile declinare informatica, utilizzo intelligente dei dati e tutto quello che è sensoristica e mezzi di locomozione che riescono a pensare da soli. Io sul fatto che si riesca a pensare senza una mente umana sono un po' scettica, però è sicuramente una frontiera su cui ci confronteremo. Una parte del seminario è stata dedicata all'illustrazione delle numerose buone pratiche sui temi della multimodalità, resilienza ed ecosostenibilità, quali driver dell'innovazione per i trasporti e la logistica nella prospettiva della macro-regione, con esempi competitivi e attrattivi che provengono anche dalle marche, da diverse realtà aziendali, start-up, spin-off e aziende presenti come ospiti della giornata, che hanno dimostrato come si innova nel presente nell'ambito dei trasporti e della logistica, nella prospettiva della macro-regione. Il primo esempio è stato quello di Green Router, presentata da Andrea Fossa, direttore scientifico dell'osservatorio Contract e Logistics del Politecnico di Milano. Successivamente Fabrizio Lanari ha fatto conoscere una realtà marchigiana, la Plus Service SRL, con l'applicazione MyCicero. È la piattaforma MyCicero che è diffusa su tutto il territorio nazionale e che si sta diffondendo anche nella nostra regione in maniera molto molto importante. Attraverso l'applicazione MyCicero è possibile accedere alle informazioni orarie del trasporto pubblico locale. Siamo in un convegno in cui si parla di reorganizzazione dei servizi di trasporto, pertanto è importantissimo pensare come l'utente, come il cittadino, come il turista possa accedere al trasporto pubblico locale e soprattutto ai servizi di mobilità. Con quest'app, con un unico identificativo, l'utente, il turista e il cittadino può vedere le informazioni orarie di tutto il trasporto regionale, può acquistare i biglietti anche di Trenitalia e con un semplice gesto di validazione del titolo di viaggio che riceve direttamente nello smartphone può accedere al servizio di trasporto. Con la stessa applicazione può anche pagare la sosta dove siamo attivi, quindi Ancona, Pesaro, Senigallia, Fermo e oltretutto le potenzialità di questa applicazione sono pensabili, sono sviluppabili anche in altri settori. Quindi sempre parlando di trasporto, nell'ottica di riduzione dei polveri sottili ad esempio, che comunque è un elemento molto importante per la pianificazione della mobilità urbana, con la stessa app, dicevo, è possibile magari pagare un parcheggio relativamente ai bus della lunga sosta piuttosto che un parcheggio in un'area come un centro logistico, un centro logistico che comunque offre dei servizi per i trasportatori. Questo inizia a essere una best practice diffusa su tutto il territorio e si inizia a pensare a un servizio di mobilità e a un'organizzazione e pianificazione della mobilità urbana nel nostro territorio, nella nostra regione, a 360 gradi. E poi le start-up legate alla mobilità, un esempio, Armotia, incubata in The Hive, 100% made in Italy, anzi made in Marche. Si parla di best practice all'interno di un discorso che riguarda anche le start-up legate alla mobilità ecosostenibile, Andrea Andreucci per Armotia. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una start-up marchigiana, noi operiamo tra le province di Ancona e Macerata, siamo incubati in The Hive, che è l'incubatore certificato di Ancona, dal 2013, l'anno della nostra nascita. Noi ci occupiamo di mobilità sicura e sostenibile sulle due ruote. Il nostro concetto base, infatti, è l'applicazione di un sistema di trazione integrale per veicoli a due ruote. Questo consentirà di, per esempio, evitare le cadute in uno scooter, in una motocicletta e poi, grazie al fatto della doppia motricità, permettere giochi e acrobazie che non sono possibili con le motociclette tradizionali. E chi sono i vostri clienti? Come funziona un po' questo mercato? Diciamo che il mercato, dal punto di vista business to business, è rivolto alle grandi aziende motociclistiche che vogliono integrare un concetto di doppia motricità sulle loro motociclette tradizionali. Dall'altro lato, i grandi player dei sistemi elettronici che, come vendor, possono essere interessati a rivendere questo sistema elettronico ai loro clienti. Il nostro cliente principe è quello invece delle motociclette elettriche. Noi, diciamo, applichiamo il nostro sistema brevettato sulle nostre motociclette a marchio Armotia che abbiamo lanciato una settimana fa ad EICMA 2016. L'innovazione qual è? L'innovazione è quella del controllo elettronico delle due ruote motrici. In maniera intelligente le due ruote motrici collaborano tra loro con tre finalità. La prima è quella di aumentare la sicurezza, la seconda è quella di aumentare l'efficienza perché per assurdo due motori is meglio che one. E dall'ultimo, per i nostri, per esempio, motocicli da enduro, c'è un concetto di guida completamente diverso, molto divertente, che consente di fare delle cose, come dicevo prima, che con le moto tradizionali non sono possibili. Altre best practice hanno dimostrato che il territorio si sta muovendo verso l'innovazione. Il proposito è quello di lavorare insieme, favorire il dialogo tra enti e aziende per agire concretamente e rendere presente il futuro. Grazie a tutti! Grazie a tutti!